Corsa! Ahia, mi sono messo la lingua! Bentornati e bentornati a tutti amiche e amici appassionati di Ken il guerriero dell'anime e del manga Okuto no Ken, vi do il benvenuto a questo mio nuovo video. Siamo alla puntata numero 97 e quindi questo sarà il mio 97esimo video. Saluto tutti quanti i miei studenti, quelli vecchi di Aladessare e di Diozzieri e quelli nuovi di Palau, se c'è qualcuno che mi segue. Veniamo subito al titolo dell'episodio in italiano, Corsa verso la libertà. Traduzione del titolo giapponese, Addio Giulia. Un uomo forte non parla d'amore nemmeno quando sta morendo. La puntata inizia con Kenshiro che è ancora sotto shock. Dopo aver saputo che Giulia è l'ultimo generale di Nanto. E Yuzza va a morire per amor suo, di Giulia naturalmente. Ancora, Raul cerca di farlo parlare. Vi ricordate l'avevamo lasciato in quella posizione assai dolorosa per Yuzza? Fra un po' sarai un uomo morto, Yuzza. Ma non ci riesce, Yuzza non parla. Pure se la sua sofferenza ormai è enorme. Oh, non lo saprai mai. Yuzza riceve comunque una qualche consolazione perché riesce a vedere Giulia tra le sue amate nuvole. Nel frattempo, Fudo sta raccontando a Kenshiro com'è stato possibile che Giulia sia ancora viva. Lei è stata salvata dalle cinque forze di Nanto. Dopo essere balzata giù dal terrazzo del palazzo di Shin e dopo essere stata soccorsa sia da Shin che dalle cinque forze di Nanto, ci si accorge che il cuore di Giulia batte ancora. Sono stato io a salvare la vita della signorina Giulia. Il Nanto Gosha Sei aveva avvisato Shin che Raul era pazzamente innamorato di Giulia e che presto o tardi sarebbe venuto a reclamarla. E infatti è proprio quello che fa, perché Raul, insieme al suo esercito, si presenta alle porte della Croce del Sud proprio per rapire Giulia. Le cinque forze di Nanto avete detto? Sì, i protettori dell'ultimo guerriero di Nanto, signor Shin. Shin, a malincuore, è costretto a lasciarla andare. Anche se prima dice alle cinque forze di Nanto che lui riuscirebbe a proteggerla, alla fine però, però, la fa andare con loro. Shin decide di far credere a tutti che Giulia è morta, ma la affida invece alla protezione del Nanto Gosha Sei. Ryaku, infatti, gli spiega come Giulia sia destinata ad essere l'ultimo generale. Poco dopo che Shin è stato convinto, arrivano velocemente Yui del Vento, o Wayne del Vento, e Shuren, che proprio avvisano tutti che l'armata di Raul ormai è prossima ad avvicinarsi. Sanno anche che se Raul dovesse venire rifiutato da Giulia potrebbe anche ucciderla. E Shin cosa decide di fare, oltre a questo? Decide di far credere a Kishiro che sia stato lui la causa della morte di Giulia. Sappiamo tutti come è andato a finire quello scontro. Yuzza aveva pianto quando Giulia aveva scelto l'amore di Kishiro. È vero che era il fratellastro, ma questo non aveva potuto fargli smettere di amarla. E quando Raul ancora sta insistendo affinché lui gli riveli il nome dell'ultimo generale di Nanto, cosa gli risponde Yuzza? Che è un... In italiano naturalmente non potevano non censurare questa parte, infatti cosa fanno dire a Yuzza? Raul maledetto, non saprai mai niente del mio comandante. Non saprai mai niente. Raul maledetto, non saprai mai niente del mio comandante. Non saprai mai niente. Detto ciò, Raul è furibondo. Getta a terra Yuzza e vuole finirlo. Yuzza gli sputta con un fioto di sangue, evita il colpo finale di Raul, ma gli esplode anche la spalla. Poco dopo Yuzza continua a evitare tutti quanti i colpi di Raul, mostrando ancora un'energia, una forza d'animo fuori dal comune. Non solo, reagisce anche e finiscono tutte e due braccio contro braccio. Nel frattempo cambiamo scena. Kenshiro sta cercando di avvicinarsi, di arrivare al palazzo dell'ultimo generale di Nanto, ma c'è l'esercito di Raul che si frappone tra lui e Giulia. E naturalmente Kenshiro si appresta a farli tutti a pezzi. Ehi voi, toglietevi dai piedi, devo raggiungere al più presto la mia Giulia. Fate largo! Lo scontro tra Raul e Yuzza continua. Yuzza evita ancora il pugno di Raul. Raul respinge il calcio di Yuzza e lo colpisce ripetutamente con quello che sembra essere l'occuto Yakurizuken. Yuzza crolla a terra, ma si rialza non appena Raul si gira. Si prendono a testate. Yuzza spicca un enorme salto e va addosso a Raul. Tuttavia non c'è proprio nulla che lui possa fare. Nonostante sia riuscito a ferire Raul, Yuzza riesce ancora a camminare, ad avvicinarsi al re di Okuto, e Raul sta per affondare il colpo definitivo, ma frena il suo pugno perché? Perché si rende conto che Yuzza è già morto. Infatti, finalmente, in un lago di sangue, del quale comunque ci viene risparmiato la vista, Yuzza crolla a terra e spira. Sul suo corpo sono apparse anche tutti quanti gli effetti dei colpi di Raul. È riuscito a combattere anche nella morte. Giulia, nel suo palazzo, piange per la morte del fratellastro. E anche Renero è molto triste perché, lo ricorda lo stesso Raul, Yuzza è stato l'unico, insieme a lui naturalmente, che è riuscito a montare il suo destriero. Renero getta della terra con i suoi zuccoli sul corpo di Yuzza e Raul, dopo essere salito in sella, ordina al suo esercito di seppellirlo con tutti gli onori. Intanto che Ishiro, poco distante, molto distante, non lo sappiamo, sta facendo fuori tutti quanti gli omni di Raul. Non viene nominata alcuna mossa, ma possiamo intuire che anche lui utilizzi l'Occuto Yakuretsu Ken. Vabbè, non è questo l'importante, perché mosse nuove qui non ne impariamo, non ne veniamo a conoscenza. Quello che ci viene mostrato è solamente un bel mucchio di cadaveri, gente ammazzata da Ken. Il sacrificio di Yuzza sembra non essere stato completamente utile, perché? Perché Raul è riuscito a capire chi è l'ultimo generale di Nanto. Ha capito che è Giulia. Quindi non c'è niente ormai che lo trattenga dal fiondarsi da lei. Riaku si sta preparando all'arrivo del re di Okuto e sta mobilitando tutti quanti i suoi uomini. Giulia e To invece aspetteranno Kenshiro. Dunque, carissime e carissime, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, ditemi cosa ne pensate. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e a presto.